Realizzare un museo della ferrovia, ottenere una sede stabile, allestire un plastico sociale in collaborazione con il dopolavoro ferroviario da mostrare ai ragazzi delle scuole e alle committive dei treni storici. Questi progetti venuti fuori dall'assemblea organizzata dall'associazione GR 940 lo scorso 25 novembre. Una giornata importante per tutti gli appassionati della strada ferrata che hanno avuto l'opportunità dopo l'assemblea di visitare il deposito ed impianto di manutenzione della stazione ferroviaria di Sulmona che per la prima volta ha aperto le porte al pubblico. Molto importante perché le ferrovie per la prima volta aprono le porte al loro deposito, un deposito importante nella storia ma che negli ultimi anni ha rischiato un ridimensionamento incredibile e invece con l'opportunità dei treni storici abbiamo la possibilità di conservare le maestranze e di attivare nuovi servizi che uniti già ai servizi per gli elettrotreni Jets e Swing consentono la conservazione di una struttura molto importante per la città. L'associazione costituita da circa due anni prende il nome dalla locomotiva 940 e mira tra le altre cose alla rivalutazione della stazione ferroviaria di Sulmona che ha un'importanza storica, politica e sociale ma che è stata a lungo sottovalutata. Per cui questa associazione oltre che il modellismo nasce anche per riportare in vita quello che era una volta questa stazione, riportare gente verso questa stazione, verso tutto ciò che è anche la famosa transiberiana d'Abruzzo che tra l'altro nasce proprio da Sulmona. In più il nostro scopo di questa nostra associazione è quella di arrivare a istituire proprio un museo storico proprio in questa stazione.